buongiorno a tutti natura wild stamattina siamo venuti in cerca della campanola rapunculus detto anche volgarmente raperonsolo o raponsolo una piantina con delle foglie oblunghe il margine globose col margine liscio tenere a volte seghettate queste radici dolci possono essere messe nelle vostre misticanze insieme a terra repoli insieme alla valerianella insieme al ad altre piantine come la rucola selvatica le foglie sono queste e adesso vi facciamo vedere ci vuole una palettina o un coltellino bisogna scalzare la pianta attorno tutto attorno così eccola la radice del raponsolo o raperonsolo ricordiamo che comunque una piantina diciamo come si dice protetta e non bisogna eccederne nella raccolta se ne prende un pochino quanto basta per un'insalata e poi mi saprete dire accanto al raponsolo abbiamo invece gli strigoli eccoli qua eccoli qua quindi strigoli e raponsoli ciao a tutti natura wild ciao a tutti 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 ciao a tutti